Buon pomeriggio e benvenuti alla Modena Fashion Sunday. Siamo qui alla Cetaia, la più antica d'Italia del 1605 e ovviamente siamo in presenza di un nostro partner a cui teniamo, Miriam Tirinzoni. Aspetta che non sbaglio perché sennò poi ti arrabbi. Buonasera. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te caro Gianluca, caro pubblico, salutiamo tutto il pubblico e anche gli ospiti da casa per questo bel pomeriggio della Modena Fashion Sunday. Brava, sei più brava di me, adesso ti metto a te a fare le interviste. Allora parlaci un po' di come è nato il tuo brand e i tuoi abiti luxuri. Cari amici, nel 2021 durante il Covid ho pensato di creare una linea di moda fatta di abiti sartoriali, pezzi unici per valorizzare il made in Italy, dare importanza alle donne e far vivere loro dei momenti indimenticabili con degli abiti eleganti, esclusivi, personalizzati e soprattutto interamente realizzati in Italia. Questo è un po' il mio progetto. Beh, complimenti decisamente. Oggi che collezione hai deciso di far sfilare alle bellissime modelle? Oggi ho pensato, innanzitutto ringrazio te, ringrazio Giorgia che mi avete coinvolto in questo bellissimo evento qui alla Cetaia, che è un esempio tipico proprio del made in Italy, della nostra abilità e del nostro saper fare. E oggi ho pensato di mandare in scena una collezione che richiama un po' i colori dell'autunno. Quindi avremo dei colori caldi, avremo dei verdi, avremo dei marroni, avremo dei cappelli, dei wall, delle sete e non svegliamo troppo. Bravissima. Grazie. Anche perché chi vuole andare a vedere dove sei, vuole sapere dove ti possiamo trovare, punti vendita, social, sito. Certo. www.miriantirinzoni.it è il sito internet con lo store. Io sono valtellinese, ho un atelier a Morbegno e ho ovviamente lo store online e un progetto molto molto importante di apertura di un punto importante nel 2025, ma non voglio ancora svelare troppo. Ve lo dirò la prossima puntata. Complimenti, sei piena di notizie nuove, di voglia di fare. Infatti allora il progetto per il futuro sarebbe quello in pratica? Di aprire una cosa un po' particolare in una zona un po' particolare e quando farò l'inaugurazione vi chiamo. Va bene. Allora ultima domanda poi ti lascio. 2025 comunque. Bene. Estate 2025. Benissimo, lo aspettiamo di sapere tutto. L'ultimo pensiero rivolto alle donne ovviamente perché questa giornata è una giornata a 360 gradi a favore delle donne con l'associazione contro la violenza sulle donne. Un tuo pensiero? Certo, da donna non posso certo esimermi di ricordare alle donne che in qualsiasi momento di difficoltà nel quale si possono trovare comunque troveranno sempre un'altra donna amica che gli può tendere la mano. Quindi non esitate a chiedere aiuto alle associazioni, ai punti di riferimento, ai vari numeri ma anche coi social. Io ho tante donne follower che mi seguono. Basta solo indicare che una donna si trova in difficoltà e subito trovano tante donne che sono disposte ad aiutarle. Non abbiate mai paura perché non sarete mai sole. Bravissima, un ottimo messaggio. Ti ringrazio di essere stata qui tra noi e ti lasciamo andare che hai le tue modelle e la sfilata. Da preparare. Grazie Gianluca. Grazie a te. E mi raccomando tutti connessi per questo bellissimo evento. Grazie. Grazie. Ciao.